Dalla legge di bilancio e le criticate liste d'attesa della sanità regionale alle infrastrutture passando per i dati economici a bassa crescita e quelli sui nuovi poveri marchigiani e l'assenza di sensibilità per la materia ambientalista, sono in totale 10 i macrotemi toccati in sede di conferenza stampa di fine anno dal Partito Democratico. I Dem hanno voluto raccontare secondo il loro punto di vista il terzo anno di governo Acquaroli, un disastro dicono sotto gli occhi di tutti, tanto che, proseguono, la stessa giunta regionale con il Presidente si dimostra nervoso, preoccupato e sfiduciato. Bocciatura senza se e senza ma purtroppo perché poi a rimetterci sono le marchigiane e i marchigiani, lo abbiamo visto dagli ultimi fatti di attualità, ci sono intere famiglie sfollate che si sono viste bocciare un emendamento alla manovra finanziaria da parte di quello stesso partito che abbiamo anche in Regione, quindi al contrario della cosiddetta filiera rispetto delle promesse fatte. Totale scolamento con il territorio, lo abbiamo visto anche con gli alluvionati dove ci sono i sindaci che non capiscono ancora quali siano i criteri di ripartizione dei fondi che dovrebbero essere solo legati ai danni e non alle tessere di partito che si hanno in tasca e da ultimo il tema del dimensionamento scolastico che colpirà soprattutto le aree interne dove ancora una volta i territori sono stati lasciati soli e non c'è stata una pianificazione di carattere generale. Critico il capogruppo Maurizio Mangialardi sulla recente nomina sottosegretario della Presidenza di Giunta, il dottor Aldo Salvi. L'ex direttore del Dipartimento di Emergenza di Torrette dovrebbe coadiuvare il governo Acquaroli nello svolgimento dei compiti di mandato, in particolare dovrebbe seguire le questioni più spinose a partire proprio dalla sanità. È imbarazzante perché intanto c'è un sottosegretario, ma il sottosegretario si dovrebbe occupare di tutto, invece è un sottosegretario alla sanità che surroga di fatto l'assessore con compiti specifici e generali, quindi si rendono conto anche loro dopo i consiglieri di maggioranza che sulla sanità hanno completamente fallito.